partiti partiti oh tre soldi oh è partita la mia amica si chiama tre soldi ciao Elena si ci sta seguendo ti manderò la clip è il tuo ritorno però salutiamo tutti i paletti ciao Stella ciao mamma ciao mamma Valiano ciao Valiano mi ricordo il suo nome attenzione Cosi ci allarga tutto molto bene per Arcadius Milik si sovrappone Barbieri oh che palla palla per Vlauic Barbieri Barbieri l'ho dato Tommy Barbieri vedi c'è Tommy bravo Tommy si lamenta non ce l'ha data niente attenzione no questo tira bene questo tira bene no questo tira bene il nostro portiere vabbè ma con lo sguardo è comunque il nostro portiere l'ha fatta impennare raga è sempre un buon momento per lo dare Mattia come l'ha cioè come l'ha vista lui l'ha guardata lui la palla si è alzata era lì era pronto Dudu infatti dovremmo ritornare a chiamarlo in maniera affettuosa da quando lo chiamiamo Dudu lui fa cagare perché è un nome poco cattivo no invece Dushan cazzo ti sembra un vichingo di quelli di quelli di quelli Dudu di cibo vabbè ma di Dudu dai ottima difesa della Juve ottima difesa di Paredes per fortuna bremer bremer paretes bremer e gatti ottima difesa gatti poteva farne due di fila malissimo fagioli barbieri però è tanto in vantaggio pallone per quelli madonna era solo chiusura ottima di Paredes fagioli riparte il rabbi riscatta teatri bellissimo bellissimo per Danilo che ballone per Vlavic che può puntare a Rogerio Vlavic c'è il barbieri che si soprappone Vlavic ha fatto recuperare tutta la difesa metto un cross di merda bene bravo Dudu bravo niente recupero spero almeno un quarto d'ora di pace più almeno un quarto d'ora che non succede un cazzo come i primi 45 minuti però non si è costretto a guardare la partita ecco qua no spoiler please non penso ci saranno gol però ecco l'ha detto non potremmo metterci con l'arrivo in pace è andata il barbieri si fa bene i fagioli qui vai Federico testa passa via chi è lì ragazzi ma anche come scoordinato quando si butta tutto storto che si lancia a terra bella ci siamo siamo vivi Daniele le aveva fatti addormentare e poi e poi capisci colpisci come il tiki-taka il guaggialismo convintissimo mamma mia ce l'hanno preso però io canto così blauic come si gira che tecnica attenzione il cambio gioco per Kostic è preciso Kostic Dudu ci siamo svegliati eh guarda il tacco si è svegliata la punta serba si è svegliata la Juventus come stiamo giocando a pallone adesso brava e brava ma da che giro palla fluido è per Federico Gatti Gatti c'è parete schiava palla Gatti di sinistro dice lo lancio io si solo riparte ma la Juventus recupera subito palla con il capitano il capitano riparte il capitano si ferma si continua il capitano gestisce per Blauic 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 tiene palla per noi per Kostic si è l'uomo Kostic di si continua Leandro continua hai messo hai finito non perdiamo il clima vai Danilo è il capitano rabbio dai brava Dani che azione offensiva da Juventus interminabile come un felino plappas come un felino a Balbieri a Balbieri a Vlauic che gestisce palla Duzan Vlauic falla con la porta che passaggio preciso per rabbio via prima di riportare in porta esultiamo dai dai esatto a te che piace chiedere metti che è passata una notte e durante la notte lui si sveglia e tu ti sveglia e ti guarda con quegli occhi mi fa paura a me la mettere comunque mi chiederei su cosa è concentrato cioè puoi disvegli che è meglio bella bella lotta vabbè vabbè almeno ci siamo un attimo adesso capite cosa provo io non c'è nulla dai 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 un attimo ci siamo casati dai il trenino Thomas io ho trovato il supernome conosco anche io sì sì ho cognato io eh vabbè ma si cazzo oh por Mattia Perin lui è un dio è il nostro dio questa è una grande parata ragazzi questa è una parata fenomenale ma è gigantesca questa è una parata fenomenale ok dice sei cagato sotto ma è una mattia eh c'è c'è paura non gliel'hanno tirata addosso questa volta mamma mia io la voglio rivedere cabbo vabbè cazzo lo puoi dire vabbè stavo già dicendo un'altra parolaccia non ci prova stiamo vedendo delle grandi giocate dei portieri c'è nel senso anche loro fanno porti questo sport più attenzione bene la Juve vai 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 sì bravo di Maria di Maria di Maria c'è quadrato è fresco di Maria cambia tutto lui è fresco pallone per Kostic rabbia deve buttarsi dentro Kostic potrebbe metterlo in mezzo e fece dietro bella la pazza tira la di là la di là consiglio se stavamo un po' più là consiglio una pippa raga consiglio attenzione gatti bairami pallone ma caccia mamma ne avevo tolto gatti e attenzione potrebbe esserci calci di ricordi sì sì ma non ragazzi che stormace mamma mia porco Giuda pure lui fa un attimo a gatti cazzo ha messo una mano in capoccia e ha detto figlio mio ti salvo io dove va arrivare è giusto è giusto fagioli comunque in partita zero è giusto è giusto ehi regalia le palle va bene così le minchiate va bene così ci diamo una svegliata signori ci diamo una svegliata ci diamo una svegliata ciao figlio il bambino lo staglio va bene così chi è che ha detto che dovete fare l'entrava e segnare è matematico dopo 5 è il bonus anche lì anche noi ragazzi noi ne abbiamo tirato i 4 prima di fila tra noi poi per gli altri vale questa lebra mi dispiace pure vedermi così ma sì raga a lui di aver fatto una partita di merda giustamente ci rimane male no però è bello è bello vedere che c'è questo attaccamento qui è bello vedere le emozioni voleva regalarmi una gioia non c'è riuscita ci sta tranquillo Nicola non è un problema basta che al prossimo compleanno viene ti presenti c'è Polli che ancora si scaldano sì sì posso riscaldare no no ma oggi sto bastardo ma pensa a te questo deve fare il fenomeno che cazzo ha preso ma che è buffondo contro il titan questo è un pippone che prende 5 a partita ma che cazzo ha preso c'è il rabbio stava per fare il ventesimo quale stagionale ragazzi almeno dopo 1 a 0 la partita è un minimo guardabile dai ah che bello grazie sassuolo grazie chiedere come era pallolo si si tutto solo bello la pesa di nuovo la pesa di nuovo un polco no la pesa di nuovo la pesa l'ha tirata su l'ha tirata su entra Polli si dai si vedremo camminare Polli in campo per 8 minuti dai una manica sì una manica no eh perché è figo bravo Angel ma che cazzo mi cazzo a me era due mazze almeno finiravamo di sperarci c'è adesso comunque era fallo cioè dai fischia per favore fischia dai basta perdiamo 1 a 0 dai su una vittoria importante ragazzi questa per non destare sospetti con le partiti lo sconsuolo non esiste più l'abbiamo confermato stasera adesso possiamo continuare la nostra stagione ben fatto comunque non la vogliamo più sassuolo io insieme no basta colpa di me non è colpa mia no ma è colpa di tutti tutti insieme noi insieme no ma non tu noi tre è un problema colpa tua colpa simone è una colpa sì colpa di me ok